Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna. In A11 code in uscita a Lucca Est provenendo da entrambe le direzioni, l'uscita consigliata provenendo da Firenze e quella di Capannori. Spostandoci sulla FIPI Lecco dei attratti per il traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze e Scandici in direzione Firenze. Guidare con prudenza per la pioggia tra Montopoli-Valdarno e Livorno e tra la diramazione per Pisa e Pisa Centro. Per la viabilità cittadina a Firenze fino a domenica chiusa per asfaltatura a Via dei Massoni da Via di Careggi a Via della Concezione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!